Stiamo parlando dello stadio di San Siro e di che cosa succederà, quale potrebbe essere il futuro di San Siro a prescindere in realtà da tutto quello che poi leggiamo sui giornali che tra parentesi è tutto il contrario di tutto e allora diamo il buon giorno a Grecia Sceo e Paolo Catarmone, buongiorno Buongiorno Benvenuti, ho giusti i nomi? Sì, ho detto giusto, ok Buongiorno, allora perché vi abbiamo invitato? Perché voi siete, riassumendo velocemente in un'unica parola che poi sono due, reuse San Siro, giusto? È giusto, è giusto, quindi è un lavoro che è iniziato attraverso un progetto universitario all'Accademia di Architettura di Mendrisio in quella che è una cattedra di un professore che si chiama Muc Pezzet che io, appunto Paolo Catarmone insieme a Giulia Biondi che è una seconda assistente abbiamo accompagnato e Gresa Sceo insieme a Teresa Marinoni insomma erano due studentesse molto capaci abbiamo lavorato su Milano e loro si sono interessati a questo che è iniziato come lavoro universitario e poi è diventato un vero e proprio progetto che oggi ha una sua pagina Instagram reuse San Siro un sito e magari non ti svelo troppo tutto subito ma questa è un po' l'introduzione complessiva di cosa stiamo parlando ed è un progetto di riuso dello stadio è perché è la filosofia che ci dico tutto quanto in realtà è la filosofia delle tre R giusto? che io odio fortemente avendo la remoscia ma è molto bella dal punto di vista sostenibile invece complimenti per l'idea reduce, reuse, recycle giusto? questa è la filosofia come potremmo spiegarla meglio? ma penso che bisogna sempre provare un attimo a tenere in conto che noi lavoriamo con edifici che non hanno una funzione e quindi diciamo no alla demolizione ma più che altro gli edifici possono avere una seconda vita e quindi questo aiuta alla sostenibilità complessiva proprio a lungo termine quindi questo reduce, reuse, recycle può essere in tantissimi modi in architettura, nella vita quotidiana e noi proviamo più a portarlo nell'ambito dell'architettura è solo che finché appunto lo facciamo nell'ambito quotidiano o nell'ambito, non so, di un parchetto posso anche arrivarci da solo in uno stadio come quello di San Siro devo dire che è stato un bel progetto un bel esperimento che però, insomma, sulla carta per adesso sembra funzionare, no? cioè come vi è venuta l'idea di appunto riutilizzare San Siro? ma loro hanno avuto e poi noi abbiamo accompagnato soprattutto una premessa molto importante che è stata quella di non avere nessun tipo di approccio abbiamo detto dall'inizio nostalgico quindi il lavoro che è stato svolto è un lavoro che prende come richieste legittime quelle di Milano e Inter di avere uno stadio al passo con i tempi in cui siamo e con le società che competono a livello internazionale con loro e di capire se le loro richieste fossero integrabili allo stadio di San Siro con un progetto di ristrutturazione perché volevamo provare con loro a sviluppare l'idea che la sostenibilità rischi a volte di sembrare green ma non essere veramente quella la strada da percorrere ma è quella di evitare di emettere in atmosfera emissioni non necessarie quali quelle che sarebbero provocate dalla demolizione di quello stadio rispetto a un suo riuso effettivo e questo era un po' quello che secondo me Gresa anche diceva rispetto a RRR e poi il progetto l'hanno sviluppato soprattutto loro quindi non so se vuoi aggiungere No, no, è molto giusto Devo dire che su questo tema infatti ho visto non so se il progetto comunque lo siamo anzi le 56 pagine di idea che avete portato che è veramente interessante a un certo punto c'è proprio un capitolo che si chiama Falsa sostenibilità Esatto Falsa sostenibilità perché noi abbiamo anche analizzato un attimo tanti altri progetti presentati da altre realtà di Milano di cui loro a prescindere demolivano lo stadio e loro proponevano questa falsa sostenibilità che sarebbe nuovi parchi diciamo un'energia rinnovabile però loro non tengono in considerazione che se tu a prescindere demolisci lo stadio provaci qua in tantissimi metodi ma tu il CO2 i chili di CO2 che emetti sono di una quantità molto alta che voglia fare parchi hai voglia fare parchi poi per compensare l'hanno calcolato forse Esatto in teoria tu dovresti ricoprire tutto il 60% del quartiere di San Siro di alberi per assorbire Devo dire che dal primo rendering che era uscito effettivamente sembrava quella l'intenzione perché praticamente avevano messo lo stadio in Amazzonia avevano fatto una cosa del genere infatti i cittadini si erano un po' stupiti di questo Esatto Ma adesso entriamo bene nel progetto perché voglio vederlo insomma 56 pagine sono piene di roba quindi voglio non vi dico pagina per pagina ma quasi perché ci sono dei bellissimi disegni tra l'altro avete fatto anche uno studio sul quartiere ho visto perché ad esempio c'è una cosa che mi ha colpito che avete definito la linea del tram 16 divisoria che effettivamente è quello che fa Esatto noi abbiamo sì per noi è stato molto importante anche esplorare il quartiere perché lo stadio è del comune di Milano e quindi secondo noi è anche un edificio pubblico e quindi anche nel progetto abbiamo provato a dare questi questi spazi che sono legati al al quartiere perché servono il quartiere di San Siro ne ha bisogno e quindi ne parliamo subito dopo Sant'Anna con Corazon Espinado perché poi entriamo appunto nel vivo del progetto di come potrebbe essere riutilizzato 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 dico tre volte sono le tre R mi permesso lo riutilizzo in questo caso quello dello stadio di San Siro e adesso appunto Sant'Anna con Corazon Espinado Sant'Anna Corazon Espinado 1995 no dai è possibile no infatti 99 sono io che sono un miope mi sembrava un po' troppo vecchia comunque andiamo avanti con invece il nostro progetto o meglio il loro progetto sto parlando con Gresa Asceo e Paolo Catrambone di Reuse San Siro allora cerchiamo di capire però fatemi capire bene come lo riutilizziamo e in che maniera perché c'è una grande novità anche nel vostro progetto vedo un pezzo in più di stadio verrebbe da dire esatto noi sfruttiamo il fatto che il terzo anello non è mai stato completato dato l'ippodromo e quindi quello spazio residuo noi proponiamo questo nuovo edificio in cui implementiamo tutte le funzioni di cui le squadre hanno bisogno e hanno anche richiesto prima forno mi state dicendo la cosa interessante questo oggetto è il fatto che tutto quello che viene richiesto dalle squadre non viene fatto all'interno dello stadio o viene fatto in questa struttura che viene attaccata allo stadio e che quindi dentro si può continuare a fare quello che si vuole in un certo senso esatto principalmente poi noi abbiamo lavorato anche all'interno dello stadio in cui c'era questo piano non completamente sfruttato questa cosa ogni tanto salta fuori infatti esatto spieghiamola che sembra assurda ma è un piano ci fa un condominio dentro esatto gigante no però è un piano che non ha un accesso diretto alla tribuna per questo era un motivo per cui non veniva usato noi invece cambiamo un po' la circolazione e diciamo aggiungiamo questo queste gradonate con una specie di anello attorno allo stadio che ti porta anche in questo piano di cui è pieno di funzioni diverse legate al calcio non legate al calcio e poi diamo questa nuova circolazione per poi rientrare al primo anello quindi attraverso queste gradonate è interessante ma di questo che lo stadio non sarà solo però del calcio a questo punto nel senso che appunto ci saranno vari servizi è un posto dove io posso andare un giovedì mattina a fare qualcosa ad esempio giusto tipo esatto ma perché tanti altri stadi nel mondo del calcio sono aperti tutti i giorni quindi anche questo in ambito economico per le squadre è molto importante quindi noi volevamo con questo cambiamento di circolazione avere lo stadio aperto 24 su 7 di cui adesso San Siro non lo è e quindi dare differenti funzioni come anche ad esempio un nuovo centro commerciale questo collocato sotto queste gradinate c'era anche un asilo forse esatto e poi anche quindi queste funzioni legate al quartiere come una biblioteca un posto studio per gli studenti che abbiamo visto che a San Siro un po' manca per le scuole un asilo e poi un po' anche dipendenza hai parlato di centro commerciale attenzione quando si va di quello subito la cosa interessante di questo centro commerciale è che verrebbe fatto praticamente sotto lo stadio in un certo senso in uno spazio che è già occupato in un certo senso però c'è una cosa secondo me importante da dire in questo quando il nostro ex presidente del consiglio aveva detto Mario Draghi non c'è sostenibilità senza economia è il fatto che questo lavoro cerca di integrare entrambe le cose per cui non è fattibile realisticamente pensare di sostenere un investimento del genere se non ci sia qualche elemento che consente di trenare l'investimento la differenza molto grande però è che mentre lo stadio cattedrale quello che è stato soprannominato così cementificava completamente entrambe le aree sia quella di sinistra sia quella di destra per costruire un centro commerciale questo lavoro cerca di lavorare in integrazione associando a questo tutte le funzioni pubbliche che Gheresa diceva di asilo di biblioteca tant'è che il primissimo progetto quando abbiamo presentato l'università si chiamava lo stadio sociale questo era il primissimo tema poi abbiamo cambiato però è il tentativo di integrare quello che dicevo prima cioè fare un progetto che non è semplicemente ah ci piace San Siro perché ha una memoria storica della città sì però cerchiamo di farlo in integrazione con la domanda del 2024 e infatti una cosa interessante del vostro progetto appunto che da una parte rispetta San Siro senza però farlo appunto diventare un mausoleo una cattedrale in un altro senso dall'altra capisce e comprende le richieste di un mercato che ovviamente dice ok lo faccio ma ci devo guadagnare in qualche maniera e nessuno ha mai detto niente a Milano Inter su questo se non fosse che poi volevano appunto mettere cemento su un'area immensa che insomma non aveva senso quello la cosa interessante quindi è questo riutilizzo degli spazi fondamentalmente perché voi avete proprio ripensato completamente ma giustamente dicevi ci sono anche altri stradi nel mondo che già ci fanno vedere che si può fare qualcosa del genere quindi l'ispirazione in realtà era anche abbastanza tra virgolette semplice nel senso mi viene da dire com'è che non ci sono arrivati prima questi qua è questo che io voglio capire io non me lo sono spiegato no non me lo sono spiegato cioè tu vuoi degli esempi esistono beh sì certamente Bernabeu Camp Nou sono Barcellona e Madrid per chi non segue il calcio ma sono due esempi estremamente invasivi sono due progetti molto invasivi però di due riusi completi di questi stadi cambiati completamente e soprattutto quello di Madrid fatto in un tessuto storico della città di Madrid molto denso non so per chi ci sia stato ha gli edifici a fianco a una distanza di massimo 5, 6, 7, 10 metri su tre lati e nonostante questo sono riusciti a fare un'operazione importante quindi io credo che volendo ci sia tutto il margine di poterlo fare anche qui invece Raccontami di questo come lo chiamate lo schermo lo chiamate esatto perché noi volevamo provare anche a proporre questo progetto un po' impattante diciamo per farci più sentire quindi abbiamo preso come riferimento tanti progetti che lavorano su questo mondo del led su questo mondo dello schermo e quindi abbiamo provato a proporre in questo grande edificio che noi proponiamo mettere questo schermo e quindi un po' comunicare con la città e diciamo anche portare un lato moderno allo stadio e sarà praticamente quando quello che ho visto è veramente un palazzo ricoperto di led giusto cioè questo forse ci sono dei sistemi oggi con dei sistemi programmati tu puoi avere questa grande facciata che sarebbe per chi ci segue sul lato di completamento del terzo anello sul lato dell'ipodomo dell'ex podomo esattamente per cui l'edificio quando l'edificio salendo incontra lo stadio diciamo in sezione diventa una tribuna estesa quindi come se continuasse il terzo anello con tutti gli skybox tutte le lounge che venivano richieste nelle altre zone invece completa le funzioni che venivano richieste dalle squadre quindi uffici hotel e altri tipi di necessità e verso la città di Milano lì decisi di costruire ovviamente il progetto è stato una fase preliminare di visione non è una fase esecutiva integrare un sistema di led che consentisse di proiettare consentisse pubblicità consentisse quindi diventare un'immagine che magari cambia colore rosso quando gioca il Milan e blu quando gioca l'Inter come alcuni stadi come Monaco di Baviera hanno iniziato questo tipo di lavorazioni per fare comunicare di più questa scelta con la città ed è vero sì che è un po' è impattante ma la cosa divertente è che in realtà poi sarebbe un oggetto quasi visibile praticamente da tutta la città poi perché comunque sarebbe proprio iconico anche del luogo tra parentesi se l'Inter vi dice qualcosa dice ah ma non si può fare attenzione vi do questo suggerimento non so se l'avete visto il progetto Don't Stop dell'Inter prevedeva un led grosso come tutto il primo anello vi giro il progetto lo sto riguardando se fate un giro su Milano News Le Storie vi ricordo il famoso articolo che abbiamo fatto su San Siro c'era anche questo progetto dentro il progetto Don't Stop dell'Inter e comunque adesso andiamo avanti con la musica perché è il momento di arrivare con Giovanotti prima che diventi giorno qui alle 8 e 27 su Crystal Radio e poi continuiamo a parlare ancora 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 di Stadio di San Siro e questo era Max Pezzali con qualcosa di nuovo attento Max perché se ti beccano i miei ospiti di oggi te la fanno con qualcosa di rinnovato ti cambiano il titolo e attenzione Max perché dico questo perché appunto non lo facciamo nuovo San Siro lo rinnoviamo reuse San Siro e soprattutto questa operazione cosa ha di buono almeno così dicono loro carta canta carta verba volant l'avete capito l'hanno scritto poi dopo se non è così che costa anche meno come operazione rispetto a buttatutto giù ricostruisci su e fa guadagnare comunque tanto sì perché tu risparmi diciamo il costo di abbatterlo e ricostruire un nuovo stadio però allo stesso tempo noi riusciamo a mettere la stessa metratura in più in più come il progetto di Populus che era stato presentato nella cattedrale esatto nel 2021 e quindi questo è un buonissimo traguardo per anche far capire il fatto che non hai bisogno di togliere completamente demolire completamente uno stadio per arrivare a questa metratura richiesta di nuove funzioni parlando di numeri da quanto vedo avete fatto il confronto tra il progetto di CEAS che è appunto quello della cattedrale giusto e il vostro un miliardo quello di CEAS giusto più o meno più o meno poi anche un'aggiunta in verità però un miliardo diciamo il costo di più o meno di costruzione 50 euro più 50 euro o meno a quel punto potrebbe essere un miliardo e 200 milioni però sono come quelli che vanno a comprare la macchina nuova e poi risparmiano sui cerchioni capito hai speso 50 mila euro di macchina a casa 800 euro di cerchioni invece il vostro invece è 350 milioni così un costo negativo quello che però mi interessa molto in realtà che io sono una capra in matematica ma me ne sono accorto anche io quindi pensate che appunto stadium revenue cioè il guadagno potenziale dello stadio negli anni credo sia non c'è quello giusto il valore stadium revenue noi l'abbiamo abbiamo calcolato più che altro perché noi abbiamo compartimentato lo stadio quindi diciamo il mondo dei biglietti il mondo della tifoseria del calcio e poi abbiamo compartimentato invece le altre funzioni fuori dallo stadio quindi l'edificio schermo quindi questo è tutto quanto messo insieme solo biglietti stadium revenue stadium revenue se andate anche a vedere i calcoli fatti dal progetto della cattedrale loro contano anche il marketing ok perfetto loro ci fanno 41 milioni e 8 voi avete verso 42 milioni e 100 diciamo che comunque siamo lì pari ma non so se ha un senso questo conto che ho fatto la cosa che però mi ha colpito è che loro fanno 42 milioni con 280 mila metri quadrati di roba voi fate la stessa cosa con 110 quindi in realtà i vostri metri quadrati fruttano di più ha un senso questo calcolo che ho fatto voi è completamente campati in aria in verità no perché noi noi fruttiamo uguale diciamo la questione qua del land use è che loro usano tutto il lotto di San Siro perché loro usano tutto il lotto perché prevedono nella parte sinistra un nuovo stadio nella parte destra dove c'era dove è adesso San Siro il famoso mall il centro commerciale esatto il centro commerciale invece noi diciamo non vogliamo usare tutto tutto il lotto riusiamo solo quindi la parte destra del lotto e proponiamo anche alle squadre se vogliono di proporre un nuovo tessuto urbano nella parte sinistra del lotto magari mettere a posto il parco che c'è già potrebbe bastare o fare famosi parcheggi che non ci sono per la metropolitana per l'otto ovviamente noi intendiamo sempre per chi ha l'idea lo stadio è quello che oggi è il parcheggio sulla sinistra questa area come si tra bene se ricordiamo che lo stadio l'idea del progetto lo stadio andrebbe a costruirsi sull'unica area verde che esiste attualmente in quel piazzale di cemento quindi anche questo è interessante perché rimanere sulla destra e non spostarsi perché rimanere più a est piuttosto che spostarci a ovest anche per quel motivo qual è stata una delle cose delle sfide proprio interessanti che avete trovato nel progettare questa idea bellissima domanda più che altro provare a capire lo stadio perché è un progetto veramente è molto bello molto bello ma molto complicato allo stesso tempo perché non è uno stadio classico quindi a una circolazione non comune cosa differisce dagli altri ma diciamo queste bellissime torri che tutti noi conosciamo non è una circolazione ci sono altri stadi certamente però sono molto poco e quindi noi volevamo provare a mantenere questo carattere di San Siro e quindi provare a inglobare un po' questo gioco della circolazione diciamo che questo è stato un po' il nostro obiettivo anche ovviamente tenendo in conto tutte queste cose che abbiamo parlato fino ad adesso quindi le funzioni l'economia eccetera eccetera però questo diciamo è stato un po' la cosa interessante ecco la funzione che non ti aspetteresti di trovare in uno stadio che invece c'è nel vostro progetto quale potrebbe essere se dobbiamo trovarla l'asilo esatto la biblioteca e l'asilo vabbè effettivamente perché l'idea è quella di poter mettere un asilo una biblioteca all'interno dello stadio è quello che loro hanno detto nel senso di cercare di costruire uno stadio sociale cioè come ci siamo detti anche all'inizio l'interesse è arrivato notando un quartiere di San Siro perché è anche una cosa importante da dire che nessuno di noi è di Milano viviamo a Milano ma non siamo di Milano quindi l'abbiamo un po' conosciuto che vive delle disparità sociali molto grandi tra una parte magari sud più legata alle zone di Serinunte una zona nord più legata a quartiere residenziali quindi l'idea di andare a mettere funzioni sociali e farlo vivere durante tutti i giorni della settimana come asilo biblioteca mi dici se mi dimentico qualcosa ma è giusto era questa idea di renderlo non solo un mausoleo del calcio o dei concerti d'estate ma qualcosa che è in grado di comunicare con la città ed è forse quello appunto che ci affascina di questo progetto che appunto speriamo di vedere almeno posso dire non arrivo a vederlo realizzato ma almeno ascoltato devo dire che già quello è l'obiettivo era l'obiettivo perfetto andiamo avanti con la musica adesso il momento di Fiorella Mannoia con Mariposa Mariposa Fiorella Mannoia 8 e 46 minuti e prima di chiudere ancora due parole sul progetto di Reuse San Siro che ha al suo interno anche un messaggio per il comune proprio a message for the major non c'è così no? ma sì noi in questa pubblicazione che abbiamo fatto abbiamo cercato di dare un messaggio di un comune e un messaggio per le squadre l'idea complessiva di questo lavoro è quella di stimolare una sensibilità rispetto a riusare San Siro e sperare che questo porti dopo lo studio di fattibilità che è stato commissionato a un concorso internazionale che affidi il progetto e il messaggio per il comune è dire che una città come Milano che vive di smart city sostenibilità e tante parole chiave che hanno viaggiato in questi ultimi anni capisca che questo può essere un elemento pionieristico di sostenibilità vera attraverso la riqualificazione di un edificio storico iconico come lo stadio di San Siro capendo che la vera sostenibilità non è possiamo anche con un pelo di polemica dirlo coprire necessariamente di verde edifici nuovi con cui però emetto una marea di energie carbonica per costruirli ma è riutilizzare l'energia carbonica che già ho utilizzato per costruirli tutto questo dietro c'è un collettivo giusto che io chiamerò tripla R perché non riuscirei mai a dirlo come si chiama invece? RRR architecture non ce la farò mai quindi tripla R per me va bene che è molto interessante raccontacelo un po' Gresa sì noi facciamo parte di questo collettivo che diciamo è una piattaforma di una rete internazionale di non solo architetti ma specialisti in differenti ambiti e diciamo che noi portiamo avanti questa famosa sigla RRR e proviamo a proporre progetti soprattutto legati a questi edifici che possono essere riusati e che non hanno bisogno di essere demoliti beh insomma e questa non è come invece avete parlato non è la falsa sostenibilità appunto di cui di cui si parlava di cui si parlava prima io vi ringrazio allora davvero vi ringrazio tantissimo grazie grazie mille di essere qui con noi ricordateci anche le coordinate per sapere di più sia sul progetto Riu San Siro sia anche appunto del vostro collettivo poi esatto ci potete trovare su Instagram at Riu San Siro per il progetto invece per il collettivo at RR architecture 3R mi raccomando e invece c'è anche il sito www.riusansiro.com in cui c'è anche un formulario per chiedere un po' le persone di Milano cosa pensano su se bisogna batterlo sì o no quindi se siete dove non arriva l'amministrazione che dice che non si può fare il referendum ci arrivano loro giusto bravi avete fatto bene avete fatto e sì qua www.riusansiro.com fateci un giro la cosa interessantissima anche del vostro progetto che mi ha colpito fin da subito è anche l'internazionalità del vostro progetto cioè tutto minimo in doppia lingua se non avete ma c'è anche il tedesco ovviamente per quello che riguarda il collettivo proprio a far capire che insomma sì la questione è appunto il tram 16 che divide il quartiere il tombino se lo spostiamo di qua o di là ma poi non è solo lì cioè la questione poi diventa cittadina ma diventa internazionale anche perché San Siro è una cosa divertente che abbiamo visto quando hanno presentato un video all'università presentando il progetto intervistando anche insomma persone dal Brasile dal Sud America eccetera San Siro è un po' come il Duomo di Milano cioè chi segue il calcio e lo sport sa che cosa sia San Siro in tutto il mondo e allora appunto seguiteli sui social seguiteli sul sito quindi andiamo un po' tutte le coordinate anche sul nostro podcast potete riascoltare e quindi rivedere anche tutto quello che mi ci siamo andati questa mattina Gresa Paolo grazie mille davvero a entrambi di essere qui con noi e appunto ci risentiamo per magari riutilizzare qualcos'altro adesso io faccio una lista di posti di Milano che secondo me potreste dargli un'occhiata potrebbe essere utile ad esempio un istituto Marchion di Abagio ad esempio poi dopo vabbè ne parliamo ne abbiamo già parlato tante altre volte andiamo con la nostra sigla grazie a tutti Grazie a tutti.